Questa sera cercherò di completare sempre in modo semplice e forse non del tutto adeguato per la complessità della problematica i concetti di neotenia o pedomorfia e di trasposizione che rientrano tra i quattro meccanismi principali di cui parla Peter Sloterdijk nel suo articolo La domesticazione dell'essere. Quindi per avere un'introduzione a quanto sto dicendo in questo video è necessario per chi ascolta, per voi che ascoltate, andare a vedere gli altri video immediatamente diciamo vicini in cui ho parlato appunto della domesticazione dell'essere di Peter Sloterdijk. E voglio cominciare però con la stessa citazione che Sloterdijk fa di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Dice San Paolo nell'estratto che Sloterdijk ci propone, leggo Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna non costruita da mani d'uomo nei cieli. Perciò sospiriamo in questo nuovo stato desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste. Ora in questo breve tratto, in questo breve brano, in questa estrazione, ci sono tanti concetti che vanno a confluire, che ci possono aiutare a spiegare che cosa può intendere, che cosa intende Sloterdijk con i concetti di trasposizione e neotenia, pedomorfismo. Perché comincio dall'analisi di un brano che appartiene ad una particolare religione che è la religione cristiana? Perché io, insieme a me altri, si meravigliano del fatto che possa essere questa la conclusione, il fine della avventura del singolo umano sulla terra. Leggiamo piano piano di nuovo questo brano. Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, ora non pensate al corpo come, per così dire, la prigione dell'anima, eccetera. pensate al fatto più banale, più fondamentale, che qui Paolo di Tarso per parlare di un involucro che avvolge il nocciolo, l'anima, no? parla di abitazione, abitazione, cioè uno spazio abitato. Nelle lingue romanze e in quelle tedesche, diciamolo, anglosassoni, il termine avere, abitare e abitudine hanno la stessa etimologia che è quella dell'habitus, dell'abitudine, della routine, di ciò che si ripete, di ciò di cui ci vestiamo in quanto esseri che si comportano, che hanno quindi delle abitudini e che sentiamo per questo motivo di avere. Riceveremo, dice Paolo di Tarso, un'abitazione da Dio. Ripete ancora, sottolinea, una dimora eterna. Ora, non costruita da mani d'uomo né i cieli, vedete quanta... Per indicare il fine ultimo, per così dire, la conclusione ultima, il fine, lo scopo di questa nostra esistenza umana, Paolo di Tarso ci parla di una cosa così presente nelle vite degli uomini su questa terra. Ci parla di casa, ci parla di dimora, ci parla di abitazione e in queste parole echeggiano le abitudini e nella parola abitudine echeggia il nostro abitare umano sulla terra. Cioè, Paolo di Tarso, per dire qual è, per così dire, il fine, il paradiso, ci parla di qualcosa che noi già qui viviamo quotidianamente, che ci distingue, attenzione bene, dagli animali che vivono in modo naturale e ci parla proprio di una dimora, di una casa. Ci parla quasi di una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo. Qui c'è proprio il voler negare il fatto, o il voler affermare, il fatto che sulla terra le abitazioni le fanno gli uomini. Ma noi stessi uomini non abbiamo un altro modo per dire in che cosa consiste ciò che noi desideriamo se non indicando questo ciò che noi desideriamo con la casa, la dimora. E quindi, Paolo di Tarso, per dire guardate che non si tratta delle case che voi avete sulla terra, che voi abitate tutti i giorni, perché questa casa, questa dimora, che è il vostro stesso corpo, nuovo, è stata costruita non da mani d'uomo ed in più si trova nei cieli. Ora, il termine della trasposizione in questo testo, ciò che si intende per trasposizione, è da intendersi come trasposizione dalla terra al cielo. Ciò che c'è sulla terra è considerato come trasposto in cielo. E dov'è che noi ritroviamo invece l'origine della pedomorfosi umana, della neotenia che ci fa essere uomini come prosecutori di situazioni fetali, di protezione nelle cosiddette neosfere culturali. Cos'è? È appunto la dimora. la dimora se vogliamo la dimora nuova per noi stessi che è un nuovo corpo. Ora, l'interpretazione platonica cristiana di questo branch ci fa vedere in maniera quasi banale un'anima dentro un qualcosa, questo qualcosa si chiama corpo-materia viene trasposta in cielo e avremo l'anima dentro un nuovo qualcosa e questo nuovo qualcosa è un altro corpo che uno immagina come quello sulla terra e così via. Ora, come quello materiale soltanto che non è fatto da buoni uomini ma da altri che dovrebbe essere Dio è corpo che ci riveste perciò sospiriamo in questo nuovo stato desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste. Ora, se invece di intendere corpo come corpo celeste o come corpo se invece di intendere questo corpo fatto di pelle carne osse eccetera intendiamo come corpo la comunità e qui c'è un altro senso della trasposizione ciò che ci rivestirà in cielo è una dimora ed il corpo di questa dimora è una nuova non fatta da uomini comunità di altri uomini quindi il corpo è la comunità si dice il corpo della chiesa in questo senso qui il corpo della comunità quindi il nuovo corpo che attende il singolo dopo la morte è un nuovo corpo comunitario e questo corpo comunitario costituirà la nuova dimora ora capite quello che sta proponendo Paolo di Tarso agli uomini è un ideale un'utopia un qualcosa che già gli uomini vivono sulla terra ma qualcosa di perfezionato allora che cosa sta proponendo nei termini in cui avevamo visto nei precedenti video sta proponendo una nuova insulazione questa volta non fatta da mani umane non fatta da mani umane significa che sta proponendo una nuova tecnica una tecnica non umana ci sono tutti i termini in questo in questo brano insulazione tecnica non costruita da mani d'uomo significa costruita dalla mano di Dio quindi vi è l'inconsapevole consapevolezza in Paolo di Tarso che c'è un'insulazione c'è una tecnica quindi che abbiamo visto nei video precedenti che è quella che apre l'ambiente e fa sì che l'ambiente diventi mondo quindi è l'apertura all'essere c'è l'insulazione c'è la tecnica c'è implicitamente la trasposizione perché si passa come trasposizione dalla terra al cielo e c'è la neotenia nel senso ed è il termine che per così dire avvolge tutto il brano perché questo perché in realtà nell'andare in paradiso nel pensare di andare in paradiso come fine ultimo vi è un ritorno ancestrale il ritorno a qualcosa di ancestrale e di dal punto di vista biologico molto semplice e il ritorno all'utero il ritorno cioè in quella condizione di prenatalità che consentiva l'esistenza del non uno in un mondo che era quello che è stato per noi tutti quello placentare in cui la comunità era un oggetto non uno ora questo è il fine ultimo il fine ultimo quindi è una dimora che ci protegge e questa dimora è fatta di un corpo comunitario l'andata in avanti nel tempo analizzata da questo punto di vista è un ritorno al passato ci sono ora staccandoci un attimo dal commento di Paolo di Tarso vi chiedo ecco chiedo a chi ascolta di guardare un corpo umano sto riprendendo l'idea di Sloterdijk di guardare un corpo umano la nudità del corpo umano e di paragonare questa nudità del corpo umano con la nudità degli animali a parte la presenza o l'assenza diciamo la presenza di l'assenza di peluria sul corpo umano noterete a prima vista quanto questo nostro corpo sia sfornito di mezzi rispetto all'ambiente esterno o agli ambienti esterni in cui noi umani ci siamo abituati a vivere non abbiamo mezzi corporei non abbiamo i denti accuminati non abbiamo unghie forti siamo appunto nudi la nostra epidermide è abbastanza delicata non è per niente forte in più non abbiamo il muso il nostro muso è rientrato in più qualcosa di interno è passato all'esterno e quindi avremo le labbra i caratteri infantili permangono negli adulti umani con un certo valore di bellezza che è molto apprezzato ecco quando si parla di pedomorfia umana si intendono appunto si intende appunto sottolineare questi caratteri permanenti di infantilismo morfologico quasi fetale nell'essere umano tant'è che il nostro è un volto ma non è un muso c'è qualcosa che va verso l'interno e non che va verso l'esterno come sarebbe naturale come sarebbe naturale che fosse ma come è stato possibile selezionare esseri viventi creature così sfornite ecco questa è una domanda come è stato possibile che la natura ha selezionato creature così poco adatte ad un ambiente esterno nei video precedenti vi avevo detto che è la tecnica che ha aperto la possibilità dell'essere la lichtung quindi tecnica ed essere arrivano insieme ed è la tecnica che permette all'essere umano di vivere nell'essere di avere il proprio mondo come essere quindi come apertura appunto come lichtung questa tecnica nello stesso tempo quindi protegge la comunità umana dall'esterno e questa protezione tecnica delle comunità umane dall'esterno responsabile della formazione di quelle che Slaughter Dai chiama le sfere comunitarie è anche responsabile di una selezione di caratteri biologici di un flusso genetico che si evolve non più in riferimento all'esterno all'ambiente esterno ma in riferimento alla stessa dimensione interna della sfera comunitaria ecco che una simile selezione favorisce il lussureggiare di forme diverse varie che non sono selezionate in riferimento alla loro possibilità di diretto adattamento con l'esterno ma in funzione di valutazioni che avvengono all'interno della stessa sfera comunitaria quindi questa sfera comunitaria può selezionare la bellezza o una forma di bellezza che non tenga conto della fuoriuscita del muso ma invece del rientrare del muso in modo tale che la faccia diventi volto oppure può quasi sicuramente è accaduto può favorire un lussureggiare delle formazioni cerebrali neocorticali nuove formazioni cerebrali neocorticali questa selezione che avviene all'interno favorisce sicuramente anche l'incremento di ulteriori tecniche che permettono di proteggersi dall'esterno e quindi come vedete si ha un lussuleggiare di forme di variazioni che solo indirettamente sono legate all'esterno ma che attraversano i filtri della selezione interna comunitaria ecco che quindi sono favoriti quegli quelle creature quei singoli quei flussi genetici se vogliamo avere un linguaggio meno romanzesco meno poetico meno letterario e più tecnico più scientifico sono favoriti quei flussi genetici che sono portati ad incrementare metodologie tecniche e come vedete qui c'è un feedback la selezione favorisce flussi genetici che portano a modifiche che a loro volta favoriscono altre migliorie nella tecnica ora affinché questo possa avvenire è necessario una è necessaria la possibilità di adattarsi all'ambiente interno alla comunità da parte del singolo e quindi a far sì che la comunità stessa dopo diventi un utero stesso per il singolo e per la formazione del singolo questo avviene dopo ancora prima avviene la selezione di femmine della specie pre-omenide che partoriscono prima di quanto sarebbe opportuno se la specie il singolo vivesse direttamente a contatto con l'ambiente esterno senza il filtro comunitario ecco che la maturazione di quello che è il feto del neonato avviene per buona parte all'esterno dell'utero materno la madre stessa diventa una continuazione dell'utero per il neonato e lo stesso avviene per tutta un'età fino ai 10-11 anni 10-11 è esagerato però 2-3 anni perché si calcola che rispetto agli altri mammiferi la gravidanza di un di Homo sapiens dovrebbe durare 21 mesi figuratevi un po' 21 mesi quindi dapprima la madre rispetto al bambino costituisce come un utero esterno e poi tutta la comunità diventa un'incubatrice per il bambino da cui la neotenia quindi questo si intende per neotenia l'essere umano rimane bambino fino a tarda età ma questo gli permette di adattarsi alle regole interne della comunità stessa nel momento delle e ora purtroppo alcuni popoli d'Europa come gli ucraini stanno vivendo uno di questi momenti nei momenti delle catastrofi l'esterno arriva ad impatto a rompere la comunità quindi l'interno e quindi è questo il caso catastrofico in questo caso che cosa accade qual è la trasposizione simbolica che permette agli uomini in queste situazioni catastrofiche di sopravvivere è il ritorno il ritorno attraverso gli simboli a ciò che viene idealizzato come una comunità originaria quindi come la dimora originaria e quello che accade in tutte le guerre o in tutte le catastrofi che riguardano le comunità umane per cui la comunità stessa l'involucro della comunità è sconvolta dall'elemento esterno la ferita si rimargina ritornando a ciò che fu quella comunità e in un certo senso anche idealizzandola però Paolo di Tarso ci dice che questa è anche la speranza del futuro cioè di quello che ci aspetta dopo la morte allora attenzione perché Paolo di Tarso qui ha avuto un'intuizione e si può accettare o non accettare però è un'intuizione potente potente perché ha influito sulla cultura la civiltà e la vita per due migliaia di anni almeno sugli occidentali con questa intuizione l'intuizione è questa che la paura della morte per gli esseri umani è non la paura di morire di finire la paura del nulla dell'annullamento che cos'è questa paura della morte la paura dell'annullamento è la paura di rimanere senza una dimora senza un'abitazione ma per dimora e abitazione dobbiamo dire che per abitazione e dimora in questo caso intendiamo la comunità umana la paura è lo stress che provoca la paura agli esseri umani e che identificano gli esseri umani identificano con la paura del nullo la paura della distruzione la paura della morte Paolo di Tarso intuisce che è la paura di non essere più nella comunità degli uomini perché è la paura della mancata protezione da parte della comunità degli uomini questa è per intuisce Paolo di Tarso la paura della morte la paura della morte in realtà la paura di rimanere senza la protezione che viene dalla comunità e quindi è la paura per l'abisso dell'esterno per l'abisso di ciò che è infinitamente esterno infinitamente grande è la paura per gli spazi cosmici infiniti da cui non c'è più modo di proteggersi se si è fuori dalla comunità degli uomini quindi se si è morti e in questo senso altro da questa comunità questo è un sentimento che penso molti bambini io l'ho provato quando ero addirittura 6-7 anni cioè il corpo che il corpo come dice Leopardi e per poco il corpo non si spaura quel senso di terrore che si prova in certi casi da bambini e piccoli di fronte all'immensità del cielo per esempio di notte e la paura di non essere più protetti di essere da soli di fronte a spazi infiniti quindi come vincere questo stress cioè come vincere lo stress che può procurare questa paura si vince con la promessa come fa Paolo di Tarso di una dimora eterna avrai per sempre una casa significa che tu uomo avrai sempre altri uomini intorno a te e saranno questi a proteggerti ora questo può essere visto come il vizio dell'uomo cioè il fatto che l'uomo non si è mai deciso a diventare coscientemente adulto vuole continuare la propria epoca neotenica più che può nel corso della propria vita e si difende da qualunque attacco esterno trasponendo nel simbolico una sua dimora in questo senso anche la filosofia può essere ritenuta una dimora che simbolicamente protegge e a questo proposito voglio ricordarvi un testo di tutt'altra natura rispetto ai testi a cui siete abituati diciamo a cui siete abituati su questo canale e questo testo è le dimore filosofali di Fulcanelli un testo che proprio ha pochissimo a che vedere con quanto noi diciamo direttamente non è nemmeno un testo di filosofia figuratevi è per così dire catalogato come un testo esoterico di alchimia studiai a suo tempo certe questioni sempre da un punto di vista antropologico da un punto di vista sociale mi interessavo direttamente l'alchimia però voglio soltanto sottolinearvi questo il titolo di questo testo è le dimore filosofali cioè la filosofia proprio come una dimora qualcosa in cui abitare vivere e vi ricordo ancora che la filosofia nasce con la polis quindi con la città un luogo da abitare vi ricordo la repubblica di platone che cos'è il modo di amministrare una città come si può vivere insieme ad altri in un certo luogo in un certo modo vi ricordo la città del sole di Tommaso Campanella come quasi un luogo dove arrivare dove dimorare finalmente un luogo dove dimorare eppure tutti questi luoghi tutte queste sfere non sono altro che l'aspirazione ideale per noi che già abitiamo su questa sfera che si chiama terra grazie grazie